Da quanto tempo è qui? Aspetto dalle ore 2.30 perché mi hanno detto di venire tra le 2.30 e le 5.30 questo pomeriggio. Io presenterò ovviamente un esposto per interruzione di pubblico servizio e se, come mi dicono, è il dottor Amoretti che ha dato l'ordine di chiudere e questi hanno chiuso baracche e burattine e ci hanno lasciato qua come dei poveri fessi, è chiaro che qualcuno deve pagare perché c'è gente probabilmente che è venuta a fare il tampone anche la febbre, sta male, ci sono bambini, ci hanno lasciato in coda come dei poveretti senza neanche avvisarci che non ci avrebbero più prelevato e fatto il tampone. C'è una mancanza di rispetto nei confronti del cittadino, evidentemente l'Asle 1 non si sente di dover svolgere un servizio pubblico essenziale come forse è e allora è chiaro che c'è qualcosa che non va, perché rispetto del paziente che nel caso di Asle che è azienda è anche cliente perché paghiamo tutti le tasse e anche il servizio sanitario nazionale, è evidente che c'è qualcosa che non va, è un meccanismo ammalato e io voglio andare fino in fondo. Grazie.